appuntamenti con la rassegna teatrale voci dei luoghi sabato 9 agosto alle 21 la compagnia 3001 e avesime asti in piazza vittorio emanuele secondo domenica 10 agosto alle 21 l'accademia dei folli a malesco verbania al cinema teatro venerdì 22 sabato 23 agosto l'appuntamento è sempre alle 21 con assemblea teatro il 22 a madonna del sasso verbania il 23 a cantalupo ligure alessandria fino al 15 ottobre nella sede della biblioteca della regione visibile la mostra eccellenze del piemonte vecchie pubblicità di carta e di latta 1900 1960 che espone scatole di latta di segni colori etichette e targhe pubblicitarie prosegue l'esposizione di mostre fotografiche del consiglio regionale per il mese di agosto all'otto galleri di vienizza a torino in calendario dall'11 al 17 piazze del piemonte architettura urbanistica eventi quotidianità dal 18 al 24 il fascino borghese della fotografia politica costume e società dall'archivio fotografico de il borghese e dal 25 al 31 dalla storia la satira cronache ed eventi in caricatura da cavur ad andreotti all'ufficio in relazione con il pubblico allestita fino al 3 settembre la mostra d'arte figurativa e astratta racconta il tuo piemonte attraverso la storia la letteratura le sue bellezze architettoniche promossa dalla sezione arti visive della regione piemonte grazie a tutti